Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Vi do il benvenuto. Ancora sono un po' raffreddato e per questo ho chiesto al Monsignore di leggere la Catechesi. Stiamo attenti, che credo ci potrà fare tanto bene. Grazie. Che mondo felice sarebbe quello in cui la giustizia, il rispetto, la benevolenza reciproca, la larghezza d'animo, la speranza fossero la normalità condivisa e non, invece, una rara anomalia. Ecco perché il capitolo sull'agire virtuoso, in questi nostri tempi drammatici, nei quali facciamo spesso i conti con il peggio dell'umano, dovrebbe essere riscoperto e praticato da tutti. In un mondo deformato, dobbiamo fare memoria della forma con cui siamo stati plasmati, dell'immagine di Dio che in noi è impressa per sempre.